Ciao a tutti, oggi siamo su Google Art e Art, Art, va bene, e oggi vi farò vedere 5 cose interessanti da vedere. Allora, per prima cosa vorrei farvi vedere un... aspetta, vabbè, interessanti, allora, interessanti per un modo di dire. Questo qui è molto interessante, direi. Guardate il nome, non ve lo leggo perché non voglio fare figure. Non perché io non sappia leggerlo, solo che non vedo e quindi non posso leggerlo, va bene. Allora, voi cercate questo posto, vi spostate leggermente in su verso il parco e verso questa specie di strada semi-rettangolare. Dove c'è DuParc, DuVancy, va bene. Vi andate leggermente... vedete il puntino qua, questo qua? Voi vi mettete un po' più indietro, ma nella strada che c'è nel mezzo... nel quasi-rettangolo, più o meno qua. E vedete questo? Allora... Guardiamo negli altri cassonetti, ma... Voglio vedere una cosa, ma si vede se io mi metto di qua? No. Ah, ma proprio... non si vede se mi metto di qua. Adesso non posso neanche più tornare indietro. Vabbè, avete visto un bambino dentro una patumira, è bellissima. È molto interessante questa cosa, sì. Allora, altra cosa da vedere. Sempre molto interessante, anzi questa qua sì è interessante. Devo capire qual è. Vi... ci metterete un po' per cercarlo, ma... buona fortuna. Vi lascio un attimo per guardare il nome. Allora, vedete qua dove vi dice The Quiet People, The Silent... The Silent People? È una cosa... da quello che ho capito è riferente a un film che io ho visto, quindi... Sì, dovrebbe essere così, perché la cosa è quella. Quindi ci sta anche bene. Se voi andiamo qua... Sulla strada non c'entra niente il punto dove vi ho segnalato, vedete? Allora, ho fatto delle ricerche. Praticamente questo posto sarebbe... È riferito a un film che, se non mi sbaglio, si chiama The Silent People, sì. O The Silent Sea, o Fiume Silenzioso. Non mi ricordo, uno delle due. E praticamente raffigurano come se fossero tipo zombie. Però questi qui sono manichini. Adesso non si vede bene perché siamo lontani, però sono manichini. Siamo sopra il tetuccio della macchina di coso, va bene? Guardiamoci intorno un attimo per vedere. Però non è voluto. È interessante. Se qualcuno vuole andare a vedere, va da... Buona fortuna. Ok, andiamo avanti. Abbiamo detto cinque cose, vero? Ne abbiamo viste due, ce ne mancano tre. Perché ho altre robe da farvi vedere, solo che non ve le faccio vedere tutte. Se volete vedere altre cose, basta che me lo dite e ve lo faccio vedere. Qui invece abbiamo una sponsorizzazione grossa della Coca-Cola. Non si può andare a vedere lì vicino, anche perché non si vedrebbe. Quindi se vi interessa sponsorizzare qualcosa, vi fate un giro col trattore nel deserto, vi fate una scritta gigante e scrivete il nome del nostro negozio. Così vi fate una sponsorizzazione enorme, oppure risultate alieni. Che vogliono dire un messaggio segreto e che cercano di tradurre per tutta la vita e poi si scopre che siete stati voi, vabbè. Immaginate questa cosa, però va bene. Allora, prossima cosa. Vediamo un po'. Sono indecisa tra questi due. Però vi ho fatto vedere già quello della Coca-Cola nel deserto, quindi vediamo il lago umano. Vediamo tutto dall'altra parte del... Ah no, è anche vicino, dai, su. Vicino per modo di dire. Allora, non posso neanche qua andare a vedere perché, come vedete, non si può. Ho già provato anche prima. Sarebbe un lago a forma di persona. Non so cosa ci faccio qua, ma va bene. Ok. Adesso vediamo cosa vi faccio vedere. Ho da scegliere tra due cose. Una l'avete già vista, se mi seguitemi, l'avete già vista nei miei short. Quindi facciamo una cosa. Visto che è già lì, come anche la prima cosa che vi ho fatto vedere, è solo che era carina, quindi ve l'ho messa lo stesso. Vi faccio vedere un'altra cosa. Se volete vedere un occhio gigante, andate sul mio canale negli short. E sarebbe l'ultimo che ho fatto, praticamente. Adesso vediamo il guerriero gigante. È sempre tipo una cosa della Coca-Cola, ma in questo caso sarebbe, come dire, un disegno. Se vogliamo chiamarlo disegno di un guerriero. Così. Non si vede tanto bene. Sarebbe il gigante di Atacama. Non so se l'ho pronunciato giusto, però... Allora, adesso voglio vedere una cosa, perché in teoria non si può vedere. Quindi vediamo come si vede da giù. Siamo leggermente sospesi, quindi in teoria qualcosa si vede, no? Sì, leggermente. Io non capisco tanto da questa posizione. Se voi vedete qualcosa, scrivetelo nei commenti. No, io non riesco a vederlo. Vedo delle linee, ma non vedo il completo. Anna, scusatemi. Allora, aspettate, è qua. Non l'avevo vista, aspettate. No, aspettate, scusate. Va bene. Vabbè, qui si vede meglio. Ma io mi chiedo, ma se per caso c'è tipo una bufera di qualcosa, ma non si rovina sto coso? Perché è fatto di terra. Vabbè. Come quello della Coca-Cola, però... Va bene, allora, come vi ho detto, se volete vedere l'occhio gigante, andate sul mio canale e negli short. Non nei pantaloni, ma nei video brevi, diciamo così. E basta. Altre cose da farvi vedere, ce ne ho, ma io chiuderei il video qua, così, strategia di tutti quanti, restate qui per vedere i prossimi video. Furba, eh? Vabbè. Comunque, chiudiamo il gigante di Atakama. Vi saluto facendo girare la Terra, quindi... Ciao!